Strade statale Appia, obiettivo sicurezza, lo pretendono i cittadini. Loro richiedono a gran voce i sindaci di Tufara Valle dopo la scomparsa di Maurizio Davola, il 48enne di Montesarchi investito lo scorso 16 gennaio mentre attraversava la strada, l'Appia appunto, nel territorio che fa capo a San Martino Valle Caudina. Uno dei cinque comuni che annovera tra le proprie frazioni Tufara Valle, l'Irpina Roccabascerana, le Sannite, Montesarchi, Apolloso e Cepaloni, le altre realtà del territorio che compatte stamattina sono salite in prefettura Benevento. I sindaci dei cinque comuni, insieme ai rispettivi comandanti della Polizia Municipale e tecnici dell'ANAS, hanno incontrato il prefetto di Benevento, Francesco Cappetta, per richiamare l'attenzione delle istituzioni e individuare soluzioni concrete. Diverse le proposte messe in campo, dai classici disfasori alla creazione di rotatorie e sottopassi. Idee che saranno al centro di un ulteriore incontro che i sindaci avranno con i cittadini di Tufara Valle, oggi presenti con i rappresentanti del nascente comitato, mercoledì prossimo. Poi l'incontro con i due prefetti è una proposta ufficiale da inviare all'ANAS regionale. Dobbiamo fare un punto della situazione con l'ANAS, con loro bisogna discutere e fare in modo anche di alcune rotonde da fare in alcuni dati stradali che possono interrompere la velocità delle macchine che vengono sia da Montesaccio sull'Appia che quando vengono da Benevento. Quindi sono i primi interventi concreti, però ne vorremmo fare un unico comprendente vari aspetti, le rotonde, alcune questioni di segnaletica stradale orizzontale verticale, corpi luminosi, insomma un po' di cose per quanto va della sicurezza. E addirittura abbiamo anche ipotizzato anche sottopasso per permettere ai pedoni di non attraversare la strada ma di passare sotto. Siamo soddisfatti, dice padre Albert Muise, parroco di Tufara Valle, ma lo saremo di più quando le opere verranno realizzate. Attraverso questa tragedia abbiamo notato questa unità, la comunità che diventa come famiglia e tutti uniti insieme e penso che non dobbiamo fermarsi soltanto a questo fatto della tragedia ma è una lezione per impararci sempre di più a essere uniti tra di noi e a sentirsi una famiglia.